Grazie all'ultimo contratto di Collettivo Nazionale, la Cisle Medici ha inglobato nella sua grande famiglia tutte le altre figure dirigenziali che oltre ai medici comprendono anche biologi, psicologi ed altre figure. La Cisle delle Marche è stata la prima in Italia ad avere un contatto e un accordo con l'altra psicologia, quindi coinvolgere gli psicologi in modo diretto. Per quanto riguarda la Cisle Medici sarà cura proprio nostra poter portare ai tavoli dove ci saranno le esigenze e le testimonianze dei problemi che riguardano la psicologia portare direttamente un rappresentante, sia che sia un tavolo istituzionale a livello regionale, sia che sia un tavolo locale dove si discuterà con le varie aziende ospedaliere pubbliche o aziende ospedaliere private.